Si chiude con un utile netto di 1,1 milioni di euro il primo trimestre 2016 di Nuova Banca Etruria, un risultato sicuramente positivo alla luce del ciclone che ha investito il vecchio istituto. Dalla collaborazione con gli obbligazionisti azzerati al credito per famiglie e imprese a un ritrovato rapporto con il territorio, Nuova Banca Etruria ha puntato soprattutto su questo per distinguersi dal passato e presentarsi nel miglior modo possibile di fronte ai potenziali acquirenti. È stato molto impegnativo, non avrei pensato di finire in un tritta carne mediatico come è avvenuto, però adesso la soddisfazione è ancora superiore nel vedere che nonostante tutti questi vicoli, questi ostacoli, questa marcia in salita siamo usciti con una trimestrale che è andata molto al di là delle attese anche delle più rose. Io sono soddisfatto perché siamo delle quattro banche quella che ha raggiunto un utile, quindi che non immagino sia facile mantenere, anzi perché non dimentichiamoci che se noi siamo senza sofferenze però il nostro cost income continua ad essere un cost income su cui dobbiamo lavorare e si dovrà lavorare per tanto tempo. Noi siamo in questo momento, l'ho detto prima, nel panorama bancario. Voi alle volte mi dicevate che c'è molta gente che tiene il denaro sotto il materasso perché non lo porta in banca e io vi dicevo che il materasso siamo noi. Adesso con la trimestrale lo dimostriamo anche con i numeri. La mia conferenza ha dato anche un dato su comunque anche i subordinatisti che sono rimasti nonostante tutto, no? Assolutamente, questo guardi che è una grandissima soddisfazione dei colleghi e mia perché vuol dire che il legame che c'era nei confronti di questa banca si è ferito ma non è una frattura insanabile. È una ferita che da entrambe le parti c'è la volontà di risanare. Questo è veramente bello e per quello che dico fra qualche anno questo momento sarà visto come un momento di una storia positiva. Però si va verso la fase dell'arrivo di queste offerte vincolanti. Entro luglio avevate detto però non ci sono date certe sotto questo. No, no, no. Adesso noi siamo nella fase in cui siamo in confronto con i compratori a disposizione per approfondimenti che vogliono fare per poi arrivare a questa fase dell'offerta vincolante.